Consigliere Pettinare, lei parla di rancitelli e di un'emergenza mai risolta, perché? Tanto qui siamo nel Bronx abruzzese, qui ci sono criminali, clan, si delinque a tutte le ore, spaccio di droga a tutte le ore, c'è anche una caserma dei carabinieri qui vicino, sono cittadini esasperati che devono subire violenze e deangherie a tutte le ore. Ci sono persone che con le attività illecite, i cosiddetti delinquenti che io considero bestie, animali, non sono persone, che guadagnano dai 4 agli 8 mila euro al giorno, non al mese, con lo spaccio di droga e stanno all'interno delle case popolari pagando 15 euro al mese. Poi ci sono le povere persone che non ce la fanno ad andare avanti, che vengono fatte oggetto di altri intimidatori, di violenze, queste bestie vanno mandate a casa, cacciate, senza pietà, da parte di regione e comune. Però io purtroppo non li vedo, li vedo solo in campagna elettorale, poi non vediamo più nessuno. Un'altra cosa importante, io chiedo l'attivazione dell'operazione strade sicure, dell'esercito, qui ci vuole l'esercito adesso, ci vuole una forte repressione, però l'operazione strade sicure la può attivare solamente il prefetto, quindi chiedo al prefetto, faccio appello affinché si riunisca il Comitato per l'Ordine Pubblica di Sicurezza, attivi l'operazione strade sicure per portare l'esercito in queste zone. Ieri sera, a pochi metri da noi, c'è stato l'ultimo accoltellamento, si sono scontrati più clan, Rom contro Kosovari, qui nel famigerato ferro di cavallo, hanno messo a rischio cittadini, sono finiti in ospedale, c'è stato l'ennesima... Allora non si può andare più avanti così, sfratto degli occupanti abusivi, esercito, attivazione dell'operazione strade sicure, vanno buttati via coloro che guadagnano 8 mila euro al giorno con lo spaccio di droghe, e poi c'è un altro problema, questi palazzi sono pericolanti, potrebbero cadere da un momento all'altro dietro di noi. Sono cittadini sgomberati che si trovano ancora in albergo, al quale le istituzioni comune e regione non hanno ancora trovato una sistemazione, e qui ce ne sono alcuni, e ultimassero immediatamente i lavori a Via Tronto e consegnassero quelle case a questi poveri cittadini onesti che sono rimasti in albergo.